ciao a tutti benvenuti sul canale youtube delle due torri e alle nostre video recensione e questa volta il libro di cui faccio la recensione questa volta l'ho scritto io il libro è la palestra dei finali in questo caso so esattamente cosa voleva dire l'autore questo libro nasce da un'idea l'idea che ho sviluppato nel corso della mia carriera di istruttore anche se rispieghiamo due o tre volte lo stesso finale poi il nostro arrivo sbaglia perché gli manca l'allenamento sono giunto alla conclusione personalmente che per imparare davvero mettere in pratica davvero le conoscenze sui nostri finali bisogna esercitarli proprio come si fa con le combinazioni la conoscenza di un finale di base ci costruisce nella nostra testa una posizione obiettivo che noi vogliamo raggiungere proprio come la conoscenza del matto del corridoio per esempio o di altri scacchi matti particolari diventa una posizione obiettivo quando noi vogliamo risolvere le combinazioni ma le combinazioni e l'abilità tattica si impara fino a un certo punto si imparano le nozioni elementari ma poi bisogna praticarla sempre ripetutamente dedicare almeno una sessione alla settimana alla ripetizione di esercizi aiuta e per farlo serve una raccolta di esercizi dei finali proprio come serve servono le raccolte di combinazioni e questo è anche il motivo per cui lo abbiamo chiamato la palestra serve per esercitare e potenziare le nostre abilità proprio come un atleta va in palestra per potenziare i propri muscoli allora la prima cosa che tengo a precisare è che questo libro non è un manuale esistono dei manuali che a seconda del vostro livello sono più indicati per i giocatori che hanno già esperienza di torneo noi raccomandiamo questo libro qua per i giocatori che non hanno esperienza di torneo esistono dei libri un po più semplici rispetto a quello lì questo libro non è un manuale però sappiamo che diversi giocatori imparano di più con gli esercizi che non con la lettura di spiegazioni esaminiamo l'indice per vedere in quali parti sono stati raggruppati gli esercizi il capitolo 1 è dedicato ai finali teorici i fondamentali quelli più semplici e la cui conoscenza è considerata praticamente indispensabile per avere una conoscenza buona del finale questi finali sono comprensibili sia da giocatori che hanno già giocato in torneo ma sono in classificati terza nazionali o seconda nazionale per i giocatori che non hanno mai avuto esperienza di torneo occorre la supervisione di un istruttore il capitolo 3 contiene un ripasso di alcuni finali che somigliano a quelli nel capitolo 1 e posizioni un pochettino più difficili che non volevo includere nel capitolo 1 nel capitolo 2 vengono affrontati i finali complessi cosa sono i finali complessi sono quelli in cui di norma ci sono diversi pedoni per parte tipo 4 5 6 pedoni per parte molto spesso ci sono anche due pezzi per parte che caratteristiche hanno questi finali complessi la caratteristica è che a differenza dei finali teorici in cui esiste una posizione esatta in cui il bianco muove e vince o il nero muove e vince oppure la posizione è patta a gioco corretto quindi la valutazione è esatta nei finali complessi spesso è difficile dire che la posizione è vinta per il bianco o per il nero molto più spesso potremmo dire che c'è un vantaggio netto o un vantaggio leggero o una posizione di parità ma la partita è tutta da giocare quindi bisogna trovare un piano proprio come se fosse un medio gioco questo fa sì che i finali complessi abbiano delle caratteristiche diverse il quarto capitolo è dedicato agli incubi del giocatore di torneo quali sono gli incubi del giocatore di torneo gli incubi del giocatore di torneo sono quelle posizioni che tra virgolette tanto non ci capitano mai i finali alfiere e cavallo contro re il famigerato scacco matto alfiere cavallo contro re molti giocatori anche di seconda nazionale o di prima nazionale hanno i sudori freddi se devono arrivare a dare matto con alfiere cavallo contro re specialmente se c'è poco tempo sull'orologio tanto quando si gioca nei finali spesso il tempo è stato esaurito un altro finale che dai sudori freddi non solo ai prima nazionale ma anche a giocatori di rango magistrale è il famigerato finale donna contro torre è un finale che può essere molto difficile molto spesso viene liquidato con un raggiungete la posizione di philidor che quella con il re nell'angolo che troverete qui un altro finale che può essere difficile da giocare è il finale alfiere e torre contro torre ecco questi sono dei finali che sono difficili da giocare non sono tante le fonti che ci illustrano in dettaglio come giocarlo specialmente donna contro torre e io ho provato a dare una chiave di lettura in una spiegazione introduttiva e dare degli esercizi in maniera tale che praticandoli se ci capitano in torneo abbiamo qualche strumento in più vediamo qualche esempio sul contenuto di ciascuno di questi capitoli prendiamo il primo capitolo che è quello che riguarda i finali teorici con pochi pedoni e pochi pezzi partiamo proprio dall'inizio vediamo che la prima pagina contiene degli esercizi classici queste posizioni per esempio sono l'incubo degli istruttori quando i bambini ci arrivano abbiamo sempre sudori freddi speriamo che giochi la mossa giusta vedete questi simboli questi simboli indicano questo simbolo indicato se tocca al nero il nero vince se tocca al bianco la posizione patta gioco corretto qui è muove il bianco qual è la valutazione come va a finire a gioco corretto qui muove il bianco e vince insomma avete capito un pochettino come funziona no le soluzioni agli esercizi sono elencate nelle tre pagine successive quindi uno a una paginata di esercizi e poi tre pagine successive di soluzioni con una spiegazione che in molti casi ha delle indicazioni grafiche e abbiamo scelto anzi ho scelto degli esercizi la cui spiegazione potesse essere trattata in modo breve ho evitato volutamente gli esercizi che riguardano posizioni che necessitano di una spiegazione lunga oppure quando c'era un esercizio che richiedeva una spiegazione lunga è stato spezzato in diversi sotto esercizi per stadi vediamo ora in che modo è strutturato il materiale nel capitolo 2 che è dedicato ai finali complessi che per loro natura sono diversi dai finali teorici come ho detto prima allora visto che i finali complessi non hanno una soluzione esatta questo crea delle difficoltà perché molto spesso la stessa posizione non ha una soluzione univoca a cosa serve un capitolo su questi finali serve a cercare di abituare il lettore a ragionare nel modo giusto quindi io ho voluto fornire delle chiavi di lettura una guida al ragionamento un po come fa per esempio silman all'inizio della sua teoria pratica degli squilibri qui per esempio spiego la differenza tra un finale teorico pochi pedoni pochi pezzi è un finale complesso molti pedoni molti pezzi tratto al bianco il vantaggio il bianco in vantaggio ma di quanto non esiste un piano univoco io fornisco un suggerimento di pensiero schematico articolato su cinque punti uno è attaccate lontano dal re dell'avversario perché il re è un pezzo forte se attaccate le debolezze vicino al re di solito non ce la fate poi due individuate le debolezze i bersagli principali sono i pedoni i pedoni arretrati poi attivate i pezzi la catena di comando è un concetto che è stato introdotto da agardi in uno dei suoi libri in cui spiega che esiste un ordine di priorità per scegliere quale pezzo attivare prima di solito lui dice nel finale prima le donne se ci sono le donne poi la torre poi il re poi pezzi leggeri poi valutate e usate bene pedoni passati e le maggioranze la maggioranza è la mamma del pedone passato poi la struttura dei pezzi la struttura dei pezzi questo è un termine che uso io che riguarda fondamentalmente quali cambi fare ogni cambio che fa scomparire dei pezzi della scacchiera del bianco e del nero altera in maniera definitiva la struttura dei pezzi proprio come ogni mossa di pedone altre maniera definitiva la struttura dei pedoni nei finali in cui sono rimasti pochi pezzi sapere quale pezzo cambiare quale pezzo tenere è un'informazione fondamentale ed è una cosa di cui dobbiamo tenere conto anche per tutti gli altri punti quindi individuare le debolezze attivare i pezzi la catena di comando eccetera eccetera ho illustrato con esempi e con un tono discorsivo in che modo si può cercare di arrivare a formulare un piano coerente dopodiché arriviamo agli esercizi come affrontare questi esercizi allora per la cosa più importante è sempre individuare le debolezze perché senza le debolezze difficile fare un piano quali sono le più importanti quali sono le più importanti a disposizione del nostro avversario chi dei due riuscirà a attaccarlo per primo eccetera eccetera attività è più urgente attivare i propri pezzi quali o limitare l'attivazione di uno più pezzi dell'avversario e quali è più urgente attivare i propri pezzi cattivi o fare qualcosa altro per esempio migliorare la struttura di pedoni o impedire che lo faccia l'avversario eccetera eccetera ho dato anche un riepilogo delle caratteristiche generali dei finali quali finali sono più pattosi tra virgolette i giocatori da torneo sanno bene che i finali più pattosi di tutti sono quelli con alfiere di colore contrario però anche in quel caso bisogna fare un distinguo se ci sono soltanto gli alfieri o se sono rimasti anche i pezzi pesanti le cose cambiano questo è un riassunto delle caratteristiche generali dei finali che può esserci utile per sapere verso quale finale indirizzare la posizione nei finali in cui è presente un cavallo bisogna sempre tenere presente la possibilità di crearsi un pedone passato di torre che è devastante contro un cavallo nei finali in cui ci sono gli alfieri bisogna stare attenti alla casella in cui promuove il pedone di torre perché ci sono diverse situazioni di fortezze donna contro torre questa è la posizione di philidor che di norma almeno nei libri della mia epoca si diceva in qualche modo la raggiungi e vinci invece in realtà è stato dimostrato anche per esempio un famoso match di walter brown contro un computer che walter brown grande maestro non è riuscito a vincerlo un finale di donna contro torre partendo da una posizione distante da questa per cui è indispensabile avere un pensiero schematico per sapere come cercare di schiacciare il re contro un bordo per esempio questa è la posizione di oive che può essere replicata da qui con una sequenza si riesce a spostare la posizione tutti i pezzi di una colonna verso sinistra fino ad arrivare alla posizione col re nell'angolo e questa è la posizione di oive originale che si può vincere però bisogna conoscere le tecniche le tecniche per passare da questa a questa a questa e soprattutto saperla riconoscere se io non l'ho praticata come la riconosco questa è una posizione di zuzwang che permette di auto replicarsi da qui a qui a qui e addirittura anche al centro esistono posizioni di spiedino che si possono replicare spostando tutti i pezzi forzando il trasferimento di tutti i pezzi di una colonna verso il bordo ok per riuscire a cercare di padroneggiare queste questi finali uno volendo può praticare queste cose diversi clienti mi avevano chiesto esiste un libro che lo spiega e io non l'avevo mai trovato e allora ho pensato di cercare di colmare questo gap utilizzando ovviamente sia il table base sia diverse fonti a chi è dedicato questo libro allora distinguiamo fondamentalmente tre o quattro categorie di giocatori abbiamo i principianti assoluti che conoscono le regole ma non hanno partecipato mai a un torneo di circolo o un torneo federale per questi giocatori questo libro può essere utile soltanto se sono supervisionati da un istruttore i principianti che hanno già giocato tornei di circolo e tornei magari anche federali troveranno diverse cose che possono aiutarli sicuramente per un giocatore terza nazionale seconda nazionale prima nazionale assolutamente sì assolutamente sì tra l'altro va detto che la conoscenza dei finali è trasversale cioè capita spesso di assistere a prime nazionali che hanno la stessa conoscenza di un terza nazionale perché molto spesso la forza di gioco o meglio i risultati sono spesso collegati alle abilità nel medio gioco ma quando si arriva nel finale non è raro vedere giocatori anche di rango che magari non hanno la stessa conoscenza tecnica di giocatori di rango inferiore allora i lettori più attenti che hanno guardato l'indice si saranno resi conto che io ho parlato di quattro capitoli ma ce n'è un quinto il quinto capitolo è il vostro è un capitolo che per adesso è vuoto perché è vuoto perché è un libro che sarà riempito con i vostri contributi ogni giocatore o istruttore quando legge un libro specialmente un libro sui finali può essere portato a pensare caspita ma c'è quella posizione lì come fa a mancare ci deve essere per forza però quella posizione lì c'è ciò che è immancabile per un giocatore o per un istruttore non è detto che lo sia per un altro perché dipende dall'esperienza di gioco e dall'esperienza di istruttore sicuramente fra voi istruttori o giocatori ci sarà qualche posizione che secondo voi è immancabile ci deve essere a tutti i costi se ci mandate delle posizioni le cui soluzioni siano brevi e semplici le includeremo sicuramente nella prossima edizione del libro se vuoi vedere delle altre recensioni su libri di finali basta che clicchi qui sotto ciao a tutti alla prossima video recensione